Siamo qui con il generale Tricarico, presidente di ICSA, che ha organizzato questo convegno presso Montecitorio dal tema Cyber Security Made in Italy. Ecco, presidente, perché è importante questo evento? Ma per noi significa puntualizzare un criterio che in tutto questo dibattere che da un anno a cui assistiamo nel pubblico, nelle istituzioni, sui giornali, nei media, eccetera, non è stato sufficientemente messo a fuoco. Cioè che in materia di sicurezza cibernetica bisogna rivolgersi ad operatori italiani in via prioritaria, qualche volta in via esclusiva. Ecco, qui in quest'aula adesso c'è la realtà italiana del settore, la migliore, hanno dei prodotti eccezionali, vincono gare all'estero, anche contro colossi stranieri del settore. in Italia sono sconosciuti. Quindi l'obiettivo è farli conoscere e vedere poi se non si possa metterli a sistema per creare una capacità italiana di difesa nel settore cibernetico. Lei ha proposto oggi un associazionismo tra tutti gli operatori della Cyber Security affinché possano comunicare tra loro perché c'è molta dissociazione. Perché questo avviene? Perché siamo in Italia. La risposta è banale, semplice e certa. Quindi oggi abbiamo cominciato ad avere dei confermi. Cioè che questi siano operatori non aiutati fondamentalmente dal sistema. Molti di loro non si conoscono fra di loro. Ognuno si adopera nel proprio, ha molte difficoltà di carattere operativo. E noi vogliamo raccogliere tutto questo e anche le aspettative per vedere se poi non sia il caso di insistere sulla strada di creare una capacità italiana. Generale Tricarico, lei in passato ha ricoperto un importante incarico nel campo della sicurezza nazionale. Oggi, secondo lei, siamo veramente sicuri? Ma in materia di sicurezza cibernetica siamo un po' indietro come tempi, non come capacità. Ecco, siamo un po' in ritardo. Di quest'anno, praticamente il decreto Gentiloni va sotto il nome del decreto Gentiloni del 17 febbraio che individua l'architettura istituzionale che deve giustire il pericolo informatico, individua la necessità di un piano di sicurezza. E quindi si sta lavorando adesso per, speriamo, recuperare il tempo perduto. Però, ripeto, la realtà tecnologica è molto importante. Non a caso siamo il paese di Leonardo. Insomma, il Made in Italy non è di eccellenza soltanto nel griffo, nella moda, nella gastronomia, ma anche nel settore tecnologico per la cyber security. Un'ultima domanda. Non crede che lo Stato italiano investa troppo poco nel campo della cyber security? Ma il bilancio è notoriamente sofferente un po' in tutti i suoi comparti. Io spero che questo settore non venga penalizzato eccessivamente rispetto agli altri. Grazie a tutti.